Buongiorno, buon lunedì mattina, il consueto appuntamento 7.45 siamo in diretta con i giornali con la carta stampata però prima di fare questo come sempre diamo un'occhiata al meteo e anche al Santo del Giorno, oggi lunedì 9 giugno, Sant'Efrem di Acono, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.49 Allora sul tempo, sul meteo c'è poco da dire, continua e permane questa situazione di bel tempo, sole, tanto sole, temperature alte quindi per i prossimi giorni lo schema non cambierà, vedete per oggi sereno al poco più nuvoloso verso l'interno vedete anche la raffigurazione grafica della protezione civile, domani lo schema è lo stesso, nessuna precipitazione cielo veramente sereno e anche le temperature come vedete si attestano su temperature importanti queste sono quelle di domenica ma anche quelle di oggi sono esattamente le stesse 18 e 27 gradi quindi temperature altissime, temperature che si sono un po' diminuite, un po' affievolite sulla politica perché ormai sapete che Fano ha il suo nuovo sindaco e Massimo Seri e quindi vediamo subito apriamo con la pagina del resto del Carlino che ritrae in piazza il sindaco nuovo di Fano Massimo Seri a fianco a lui la moglie che è stata ampiamente ringraziata per il supporto così importante in questa campagna elettorale così lunga, così impegnativa e quindi ha voluto in prima istanza ringraziare la famiglia per il supporto e poi insomma se avete seguito la nostra diretta dalla piazza abbiamo raccolto subito le impressioni a caldo del nuovo sindaco il quale ha detto tutti ci attende un impegno importante, abbiamo una responsabilità grossa e ci impegneremo da subito. Anche Rado Romiccioli era presente in piazza, l'abbiamo intervistato subito a caldo, anche lui appena si è visto evidentemente il risultato molto sportivamente è venuto in piazza a rendere omaggio al vincitore e ha detto se questa è la decisione della città ne prendiamo atto però insomma noi vigileremo. Quindi insomma una serata importante, vediamo anche il lato insomma goliardico della cosa, un sorridente Seri che taglia è la torta preparata per lui dal pasticcere con la quale ha festeggiato in piazza. Quindi il ballottaggio è finito così però insomma preoccupazione ravvisata dal Carlino per la bassa affluenza e quindi c'è stato un po' di timore. Dopo 24 anni un socialista torna primo cittadino a Fano. I grillini però rimontano all'ultimo ma il sindaco appunto è Seri, il leader del centro-sinistra passa con il 56,35% e i pentastrellati si fermano al 43,65. Quindi un grande risultato, tutti in piazza per festeggiare. Alle 19 c'è stato un, è scattato il panico perché l'affluenza era veramente molto molto bassa e quindi c'è stata un po', dice il Carlino, una donata generale per portare le persone ai seggi effettivamente alle 12 e alle 19 e alle 17 l'affluenza era sotto il 50%. Quindi insomma veramente. Allora, cosa diversa è accaduta a Urbino, c'è stato un ribaltamento di fronte, anche la città ducale ha il nuovo sindaco perché era la città numero due della nostra provincia che andava al ballottaggio, risultato inverso. Qui si è affermato il centro-destra e quindi cade questa roccaforte della sinistra, questa roccaforte rossa Urbino, non lo è più, non è più rossa, Gambini è il sindaco. L'esito è a passo chiaro fin dall'inizio dello spoglio al voto il 66,88%, c'è stato un calo più lieve rispetto a Fano dell'affluenza e Mari Clamucci è stata sconfitta anche nelle sezioni dove il partito si considerava vincente, le dava per certe. Ecco qui, anche qui i numeri 56,10 per Maurizio Gambini e Mari Clamucci 43,9%. Quindi insomma si è ribaltato il risultato, Pesaro è rimasta del centro-sinistra, Fano ha cambiato Sponda e anche Urbino. Ecco qui i festeggiamenti e il rammarico del vinto, della vinta. Allora le lacrime di gioia di Gambini ce la metteremo tutta, queste le battute a caldo e invece la candidata del centro-sinistra dice siamo caduti ma a testa alta, scende la notte e il gelo anche sul Partito Democratico Urbinate. Allora dall'interno non solo politica ma anche un po' di cronaca, l'edizione dei giornali del lunedì è un po' stringata, c'è tanto sport naturalmente, quindi insomma le notizie sono molto stringate, una su tutte che è riportata anche da altre testate e questa qui c'è stato un incendio nella casa di una pensionata che ha avuto anche delle conseguenze mediche, è stata intossicata dai fumi dell'incendio, aveva lasciato incautamente un pentolino sul fornello, una pensionata di 81 anni e i guai non sono soltanto per il suo appartamento che è andato veramente distrutto ma anche quello superiore e quindi questa incauta nonnina possiamo dire di 81 anni aveva lasciato il pentolino sul fornello e eventualmente si è sversato e quindi ha creato incidente. È stata portata in ospedale e dichiarata inagibile la sua casa e poi sempre un anziano, un'anziana donna che durante una passeggiata, un tranquillo pomeriggio di piacere si trasforma insomma in una brutta avventura, trasportata dal suo figlio in carrozzina per una passeggiata al parco, mira al fiore, ha incappato con la ruota in una buca ed è caduta rovinosamente a terra, è andata in ospedale, ha avuto 10 giorni di prognosi, un po' di sangue, c'è stato l'intervento di due volontari che lo hanno aiutato il figlio a rimetterla sulla carrozzina. Ecco qui, purtroppo succede anche questo, speriamo che l'anziana signora si riprenda il più presto possibile e poi rientra a Fermignano l'emergenza acqua, qual è il fatto? Il resto del carlino lo ripercorre, il 3 giugno nei pressi dell'acquedotto si rileva una presenza fuori dai limiti di legge di un erbicida ampiamente diffuso in ambito agricole, quindi il sindaco Cancellieri ha emanato l'ordinanza di divieto di consumo di acqua, però è rientrata questa cosa, i valori sono rientrati nella norma, quindi in mattinata, quindi oggi presumibilmente il sindaco annullerà l'ordinanza che vietava il consumo dell'acqua e qui anche l'intervista a Cancellieri ripercorre un po' la vicenda. E poi la questione dell'ASET che riguarda Fano, il tribunale di Pesaro passa la mano ad Ancona, quindi il tribunale di Pesaro dice che non è di sua competenza, vi ricordiamo che il comune di Fano aveva fatto ricorso dopo il braccio di ferro sulla fusione con i vertici aziendali e si è rivolto al tribunale, ma Pesaro dice che non è di mia competenza e quindi a decidere sarà il tribunale di Ancona. Ancora dalla cronaca di Pesaro per quanto riguarda il Carlino, una vicenda che ha dei risvolti un po' anche uno strascico abbastanza oneroso per la famiglia perché questa ragazzina di 17 anni è caduta in bicicletta, gli hanno fatto l'alcol test, aveva superato il limite e oltre quindi alla multa di 750 euro non poteva per tre anni accedere alle pratiche per avere la patente di guida dell'autovettura, adesso sono arrivate le autorizzazioni, però per la famiglia sono stati tre anni che non sono stati agevoli e quindi la madre si è rivolta al Carlino per denunciare questa vicenda onerosa e si chiede, valeva la pena di accanirsi così tanto su una ragazzina di 17 anni per una cosa così, leggetevi l'articolo e capirete l'animo del genitore di fronte a queste cose perché poi i ragazzini fanno delle azioni ma alla fine chi ne paga le conseguenze spesso sono i genitori almeno in quell'età. Vediamo, cambiamo testata, Corriere Adriatico, Pesaro, avete visto tutti quanti le temperature altissime, è stato il vero primo weekend estivo, tutti al mare come recita la canzone e quindi anche il Corriere Adriatico focalizza l'attenzione su questo aspetto, tintarella e movida notturna la stagione è bollente. A Pesaro Enzo Belloni dice stiamo rivedendo però tutti i regolamenti che normano attualmente le attività del settore, quindi divertimento, sole, mare però non a discapito della libertà degli altri. E poi Fratelli d'Italia riprende un po' l'hashtag del sindaco Ricci di Pesaro che sarebbe un bel po', dicono che il sindaco parte male un bel po' perché le vicende legate ai due assessori non lo fanno partire secondo loro molto bene e registrano un atteggiamento un po' traccotante e strafottente e quindi lo riprendono col suo stesso hashtag. Ancora dalle pagine di Pesaro e provincia l'arma compie 200 anni, vedrete campeggiare sui mezzi dell'arma un nuovo logo sul frontale che ricorda insomma i 200 anni della benemerita. Anche a Pesaro oggi si celebra questo bicentenario e tirano anche un po' i vertici dei carabinieri a livello provinciale, le cifre del loro lavoro. Ecco, vicenda della signora, lascia il gas acceso, casa in fiamme, vedete anche l'intervento dei vigili, lì hanno impiegato ben tre ore per avere ragione delle fiamme e poi gli anziani sempre presi di mire, un truffatore colpisce ancora, tenta di proporre la vendita di una crema a una signora ma intanto gli sfila il collier. E anche sole e mare su Fano, però Massimo Foghetti dice lo sfregio dell'inciviltà perché il sottopasso di Viare Cairoli è ancora imbrattato nonostante tanti soldi spesi per rimetterlo a posto, poco decoro anche intorno ai monumenti. E allora mare Fano torna alla carica chiedendo la totale pedolizzazione del centro e le erbe alte anche nelle mura romane, insomma un quadro generale che non aiuta a far decollare il turismo e quindi insomma il nuovo sindaco avrà di che fare anche su questo fronte. E poi per gli amanti della scrittura, per chi vuole diventare, vuole intraprendere la carriera di scrittore, c'è un corso lampo al Festival Passaggi, aperte le iscrizioni per imparare a scrivere, un corso di scrittura creativa al Festival Passaggi. Quindi documentatevi se avete questa velleità, giovani e non. Cambiamo testata, andiamo nel messaggero. Ballottaggi, la notte dei conti. Avete visto dopo il decennio a Guzzi il centro-sinistra verso la riconquista della città della Fortuna, a Conseri, a Urbino, aria di ribaltone con Gambini in testa. Però insomma l'affluenza è nettamente in calo su Fano, ha visto addirittura un 20% di meno. Carabinieri, nasce l'impegno per la sicurezza, come vedete. Grande successo per i mosaici aperti in cattedrale, visitabili e fruibili da tutti. Dopo tanto tempo, per il 63% le rapine sono stati scoperti gli autori. Questo è il bilancio dei numeri dei carabinieri. Individuati anche i responsabili di ben 338 furti. Quindi, ecco, ritornevamo un attimino su questa cosa e il meteo adesso arriva anche l'AFA. Quindi il meteorologo Massimiliano Fazzini ci dice, attenzione, perché ci saranno anche punte di oltre 30 gradi per i prossimi giorni. E poi, elezioni. Per gli amanti dei numeri, se volete, qui nella pagina di Fano, tutti i numeri, ma non solo per Fano, Urbino, anche Osimo e Potenza Picena. Potete vedere un po' il quadro dei numeri con le percentuali e le migliaia di voti presi dai candidati. Verso un allungo vincente, dice il messaggero per Seri. Allora, Urbino, Gambini in vantaggio, profumo di ribaltone. Ancora, per quanto riguarda Pesaro, tutti in spiaggia, ma senza le luspe, a Sottomonte. Quindi, fermati i lavori per facilitare l'afflusso alle spiagge Sottomonte. E anche è stata riaperta la strada di Fiorenzuola, che non so se vi ricordate, qualche tempo fa era stata transennata, non c'era l'accesso, i vigili urbani volevano riaprire. C'è stato un po' di tafferuglio per questa strada di accesso a una spiaggia così bella, così amata da tanti. Adesso è ritornata la normalità. Vi dicevo, grande successo per i mosaici fruibili a tutti. Quindi la diocesi pensa a nuove aperture e a nuove visite. È un tesoro che va mostrato alla città. Grande interesse e noi vogliamo far ammirare questi capolavori a tutti quanti. Chiudiamo con l'ultima pagina del messaggero. Pentola lasciata sul fuoco, incendio distrugge la cucina. Questo l'abbiamo già visto, momenti veramente di paura, dice il messaggero. A Osteria Nuova, dichiarati, ahimè, inagibili. Non solo l'appartamento della signora, ma anche quello di sopra, sopra lei, soprastante. Allora, poi il monumento ai partigiani, il concorso lanciato dall'Ampli qui a Fano, ha trovato la chiusura per quanto riguarda la prima fase, perché sono stati individuati i tre migliori bozzetti. Qui ci sono anche i nomi dei vincitori e con le relative classi. E il tutto si concluderà nel 2015, dove verrà realizzato proprio il monumento che prende spunto da questi bozzetti. E poi il Carnevale aiuta l'opera Padre Pio, donati 15.000 euro della lotteria all'istituto, che ristrutturà una sala. Quindi il Carnevale non solo divertimento, non solo gioia, non solo coriandoli, ma anche solidarietà per i meno fortunati. E poi arriva in biblioteca i nuovi lettori per e-book, quindi per gli amanti delle tecnologie. La Mediateca Montanare e la Biblioteca Federiciana si dotteranno di questi lettori per e-book. Quindi, insomma, amanti di questa forma di consultazione, state certi che troverete pane per i vostri denti. Noi rimaniamo dell'idea che un bel libro, l'odore della carta stampata, rimangono sempre il top. Va bene, con questa ultima notizia io vi lascio. Ok, Giornali termina qui, tornerà domani mattina alle 7.45. Buon lunedì mattina e buon inizio di settimana a tutti voi. Buon lunedì mattina.